benvenuti benvenuti cari amici siamo viti questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di distrugge bottone like iscrivete canale e per cui iniziamo subito la nostra analisi della crypto total market cap abbiamo superato i due trillions era da un po che lo dicevo che che secondo me andavamo a superare i due trillions e ora li abbiamo superati ok ora non vedo limiti ok secondo me pian pianino andremo a prendere anche i tre trillions ok ci vorrà un po ma secondo me siamo verso quella direzione ok naturalmente non sono né consigli finanziari né di trading questo che cosa comporterà dal mio punto di vista comporterà che cresceranno ancora le litecoin ma soprattutto anche bitcoin questa è la mia idea potenzialmente che possiamo ancora rimbalzare a 1.8 probabilmente lo faremo perché ogni tanto vedete come arriva qualche scarico ma in fisiologico è normale e ora vedremo un po che cosa succederà ma io sono molto bullish ok quest'anno il 2021 sul mercato cripto lo vedrete anche nel video delle 19 di oggi andiamo per cui a vedere la bitcoin dominance bitcoin dominance che sta sostanzialmente crollando ok guardate qui siamo a 55 mai stata così bassa sostanzialmente e da giorni che vi ripeto che secondo me arriveremo addirittura a 50 ok questa è la mia idea che cosa andrà a comportare il livello dei 50 sostanzialmente che bitcoin le altcoin ok si apprezzeranno molti più nei confronti bitcoin e lo stiamo vedendo come in particolare sta venendo su alcune altcoin molto molto capitalizzate andiamo a vedere bitcoin che sostanzialmente a 60 mila e 700 dollari ora manca pochissima l'evolta mai guardate qui abbiamo l'evolta mai a 62 mila dollari praticamente e secondo me andremo a passarlo ok non so se lo passeremo la giornata di oggi per ora i volumi sono veramente bassi i risori ma va bene così quello che mi aspetto è potenzialmente anche un retest sui 59 6 successivamente spingere verso su fino a 62 vara 63 e poi a questo punto direi volare andiamo a vederci ethereum ethereum molto molto bene siamo praticamente a 2200 dollari all'interno di questa trend line ascendente lo vediamo qua secondo me andremo presto a vedere i 2300 dollari quindi siamo inoltre mai nuovamente su ethereum che dal mio punto di vista non avrà limiti ok quest'anno lo vedo fortemente bullish lo vedrete anche nei video delle 19 naturalmente io non penso che raggiungerà quella quotazione di 2021 se raggiungerà direi che starò bene ok e vedremo un po che cosa succede però sono fortemente bullish su ethereum soprattutto se arriverà ethereum 2.0 andiamo alle binance coin che sta facendo cose direi spaziali ok sta letteralmente andando sulla luna binance coin 633 dollari in momento in cui registro probabilmente quando voi vedete questo video sarà anche a 700 dollari ok stando sulla luna sta facendo skyrockets penso non ci sia tanto da commentare insomma lo conosciamo tutti binance coin questo è un ottimo simbolo ok per per il mondo cripto che una cui come binance legato un exchange possa fare cose veramente devastanti quindi che cosa potremmo dire su questo binance sta andando che non c'è nulla da livello tecnico da da commentare è semplicemente esplosa binance dove arriverà potenzialmente può arrivare molto molto in alto direi anche un target di 1000 dollari entro qualche mese non è impossibile che naturalmente non sono né consigli finanziari né di trading andiamo a vederci polkadot dovrebbe essere la prossima se carica naturalmente ok polkadot eccolo qua polkadot eravamo internet ascendente successivamente scarico ma su polkadot naturalmente sono sempre bullish ok se bloccata un po ultimamente da un po di tempo che sta sui 40 dollari circa siamo circa due mesi ok ma dal mio punto di vista è una grande coin ora possibile che dopo questa lateralizzazione possa anche andare lei fare skyrockets ok non direi che più che fattibile andiamo a vederci xrp xrp sta letteralmente ok volendo addirittura abbiamo raggiunto 1.50 che rappresenta un po la resistenza ma xrp sono sostanzialmente bullish perché rispetto ai massimi che sono circa di 3.4 dollari ok è molto molto lontana quindi potenzialmente potrebbe andare a far bene soprattutto se arriveranno delle news da parte a sec andiamo a vederci stella lumens stella lumens molto molto bene siamo a praticamente 60 centesimi direi rispetto a qualche mese fa siamo praticamente nella stessa zona rispetto ai massimi però attenzione perché stella lumens qui fece un skyrockets veramente assurdo ok circa un 200 per cento da 0.22 a 60 centesimi qui invece siamo ripartiti da 0.34 quindi rappresenta un'ottima ripartenza secondo me stella non si fermerà qui ok ho fatto anche un video uscirà mercoledì proprio su stella dove può arrivare qual è il suo target ok questa è la mia idea la mia visione per cui andremo a vederlo prossimo movimento che mi aspetto sostanzialmente ve lo scendente ripartire da qua e andare verso il 0.70 questa è la mia visione su stella e rimango bullish andiamo a vederci solana solana molto molto bene guardate qui che bei movimenti da 12 dollari a praticamente 30 dollari un solana che sta andando solana grande progetto siamo chiaramente in scendente guardate qua quindi non vedo nemmeno alcun problema sul solana andiamo a vederci pancake ai tra coin che sta volando grazie a bsc di binance perché binance vuole allora anche pancake sta volando per attenzione non so quanto durerà il trend è perché se tirium effettivamente scettino 2.0 però ci vorrà un po' secondo me verso quest'estate ne vedremo delle belle e scettino 2.0 se aggista il tutto la binance smart chain potrebbe perdere molto ok nel senso mari resterà invariato il suo valore però avrà sicuramente minori margini di crescita però sicuramente pancake sta sfruttando questo trend per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di distruggere il bottone like iscrivetevi al canale e ci vediamo presto ciao